Io mi occupo di autonomia finanziaria di regioni e denti territoriali e che nell'ambito del diritto costituzionale è un argomento fondamentale, molto caldo, anche in virtù dei recenti obblighi di pareggio di bilancio, a cui anche in regioni e denti territoriali sono tenuti, che ci provengono dall'Unione Europea. Il mio scopo è quello di analizzare le riforme che sono state adottate a partire dalla riforma del titolo V del 2001 e poi attraverso tutti i vari provvedimenti legislativi, penso per esempio alla riforma sul federalismo fiscale del 2009 o alla riforma in tema di spending review del 2011 del governo Monti, per arrivare poi alla riforma costituzionale sul pareggio di bilancio e cercare di capire intanto se l'autonomia finanziaria dei regioni e denti territoriali tiene nel sistema statale e quali possono essere gli spunti e le innovazioni per contribuire a rendere più efficiente la macchina Stato. Perché è bello far ricerca? Per quanto mi riguarda nel diritto costituzionale è bello far ricerca perché mi rende più consapevole come cittadina nelle scelte da fare tutti i giorni e per capire come funziona lo Stato. E come studiosa è bello perché spero che con le mie ricerche sarà possibile contribuire a far funzionare meglio le dinamiche e i rapporti all'interno dello Stato.